Per quanto riguarda l'aggiornamento dei cantieri sul lungomare, ci tengo a precisare che sono sotto controllo da parte dell'amministrazione e da sempre. Abbiamo avuto un ritardo che avevo motivato mesi fa rispetto alla qualità dei materiali che si dovevano lavorare. Oggi stiamo lavorando con grande celerità con questa sequenza, perché ricordiamo i cantieri sono due. Uno è il waterfront che si appresta a lavorare sull'area del Rastat, sul cristallo, ma anche di fronte a quelle che sono le attività di ristorazione e bar e l'altro invece è quello in Viale Battisti. Partiamo proprio dal waterfront. Dopo aver demolito quello che era la vecchia gradinata, adesso stiamo lavorando sulla nuova, all'interno della quale verranno realizzati dei vani tecnici e vani di servizio, nonché una vasca di laminazione che sarà propedeutica a tutto il discorso della fontana che verrà realizzata invece nell'area davanti al cristallo. Quindi non appena verrà realizzato tutto questo vano andremo a ricostruire per poi lavorare su quelle che sono le nuove pavimentazioni e le rifiniture. Contemporaneamente, nei prossimi giorni, quindi da qui a brevissimo, andremo a iniziare i lavori anche proprio sull'area del cristallo, dove appunto verrà smantellata la pavimentazione, realizzata la nuova fontana con giochi d'acqua e di luce, per cui la vasca è invece inserita sotto la gradonata nuova in prossimità del Rastat e la nuova area bosco. Tutto questo naturalmente dovrà essere rigorosamente pronto per giugno, per far sì che la città affronti al meglio la stagione turistica. Una volta che vengono fatti i sottoservizi, poi lavorare sopra non sarà assolutamente difficile. Per quanto riguarda invece la sezione davanti, le ristorazioni e i bar, quindi di congiungimento a questo snodo con Viale Battisti. In quel caso abbiamo avuto delle nuove richieste da parte della canteristica navale per il passaggio, ricordiamo, delle grandi barche, imbarcazioni, quali i catamarani, che hanno delle misure molto importanti. E alla luce di queste migliorie che ci sono pervenute in questi giorni, proprio questa notte faremo una sperimentazione per poi andare a definire quello che sarà sicuramente l'intervento con delle leggere modifiche e condividerlo con gli esercenti che chiameremo qui in comune proprio la prossima settimana per condividere insieme la strategia, senza avere nessun tipo di sorpresa e proprio per arrivare ad un obiettivo comune. Oltre questo abbiamo in campo quello che è il cantiere di Viale Battisti, invece sicuramente molto più avanzato. Come vedete abbiamo smantellato tutta la pavimentazione sul controviale lato Marotta e entro metà fine marzo termineremo anche la pavimentazione adiacente al cavalcavia. Una volta realizzata questa scenderemo per continuare a lavorare sul controviale dove è prevista una nuova pavimentazione di ceramica, ci sarà anche la realizzazione di una pista ciclabile invece che verrà fatta in asfalto, dei nuovi arredi, l'illuminazione avremo sicuramente dei punti luce come quelli che sono stati realizzati ma dall'altra parte del controviale verranno poi inseriti degli arredi, rifaremo un nuovo manto di asfalto ulteriore perché quello che avete visto realizzato adesso è una prima soletta binder così chiamato e successivamente appunto lo andremo invece a stabilizzare con una portata più importante e perché il carico di auto essendo a doppio senso di transito necessita naturalmente di un sostegno importante. Ecco che per fine aprile primi di maggio Viale Battisti sarà pronto.